Dopo tante tribolazioni, rescissioni di contratto, ripresa mentre i lavori e ne approfitto anche per ringraziare mentre il raccoglamento di impresa che ha ripreso appunto a portare avanti, a completare questo mentre il lavoro, oggi riapriamo la corsia preferenziale Volta Vespucci, quindi una corsia per lunghezzi circa un chilometro, come potete ben vedere sono state levate tutte le recensioni per i cantieri, rifatta la pavimentazione, l'illuminazione, i cavi, i semafori, stiamo riconsegnando finalmente alla città qualcosa che avremmo voluto che fosse fatto molto prima, ma con grande sforzo lo facciamo oggi. I lavori stanno andando avanti, si sta completando anche tutta la rete tramviaria, insomma si va avanti, cerchiamo di completare nei tempi questo importante lavoro fortemente voluto dalla città e dall'amministrazione.